Buongiorno amici, buon martedì della quinta settimana di Quaresima. Oggi mi sembra che la parola di Dio ci offre due esempi di fede e quindi due doni, perché queste due persone ci suggeriscono un comportamento, ci danno delle grandi dritte su come vivere. Non semplici, non facilmente ripetibili forse, ma affascinantissime. Giuseppe, il patriarca, nella prima lettura incontra dopo anni e anni i fratelli che lo avevano venduto in Egitto e ci si potrebbe aspettare qualsiasi reazione da quella più aggressiva e vendicativa a quella anche un po' moderata, ma che insomma mostra la ferita dell'essere stato abbandonato e venduto. Giuseppe non è che subito lancia rose e fiori ai fratelli, quindi c'è il momento della tensione, c'è il momento del dolore per lui, ma quando si manifesta ai fratelli, dice ma sono io, sono quello che avete venduto? E loro chiaramente si atterriscono dalla paura perché dicono adesso questo qua, chissà che cosa ci combina e ci avrebbe pure ragione. Lui si manifesta così, occhio, voi siete convinti che io sono qui per una colpa vostra, io sono qui per un merito di Dio. Quello che voi avevate fatto magari sulla spinta di un male, Dio ha pensato a farlo servire a un bene, dirà qualche riga più avanti, sempre nel libro della Genesi, Giuseppe e suoi fratelli. Nella pagina di quest'oggi Dio mi ha mandato avanti a voi, un po' prima di voi qui in Egitto, perché sarebbe arrivata una carestia e io lavorando qui in Egitto, come davvero è accaduto, ho provveduto anche a voi, finché anche voi poteste avere il cibo e non finiste in miseria e nel rischio di morire di fame. E Pietro nel Vangelo, secondo esempio di fede, quando Gesù dice ma c'è gente che non crede, c'è gente che sta andando via, volete andare anche voi, perché che libertà, cioè dietro al Signore si sta se si è contenti, se no non può funzionare, volete stare, volete andare, fate voi, cioè ma non è un comportamento grezzo da parte di Gesù, non è aggressivo, non è provocatorio, è fantastico, dell'amore libero, quello che lo porterà fin sulla croce. E Pietro che con altrettanta freschezza e coinvolgimento gli risponde, Signore Gesù, se potessimo tradurre, di che cosa stai parlando? Non c'è nessuno intorno che possa avere la considerazione che hai tu, tu parli e ci fai vivere già qui nell'amore eterno, ci fai anticipare il paradiso, quello libero dal timore, dal timore qualsiasi tipo di timore, perfino dal timore della morte. Tu ci fai vivere così e non per niente risorgerai. Altri no. Da chi andremo, Signore? Ecco, Signore Gesù, grazie per questi esempi bellissimi che ci accompagnano quest'oggi. Ti chiediamo in dono la fede di Pietro per dirti sfacciatamente, apertamente, bisogna dirtelo così, Signore, che non c'è un altro da ascoltare nella nostra vita. e donaci anche la fede di Giuseppe perché diventa canale della tua misericordia, canale del tuo amore. Poteva essere una scenata di vendetta, diventa un abbraccio, piangono, si abbracciano, conversano, parlano del più e del meno, avrebbero bevuto anche il caffè, forse non c'era ancora, ma sono stati lì un po' insieme. La fede che trasforma i timori, anche le vendette, i dolori che possono capitare, in occasioni, vedendo nelle situazioni, come ci insegna il nostro Vescovo Mario, l'occasione della grazia di Dio all'opera. Buona giornata a tutti.